buonasera a tutti benvenuti a questa nuova serie un giovedì da leoni parte la sigla parliamo di partite europee partiamo subito dalla conference league la roma pareggia 1 a 1 in casa dell'eister tutto aperto per la gara di ritorno mentre nell'altra partita il feinord vince in una gara pirotecnica 3 a 2 contro il marsiglia mentre in europa league illipsia batte 1 a 0 i re rangers e finisce invece con la vittoria del francofort che dopo aver eliminato il barcellona vince 2 a 1 contro il quest m risultati che prevedono partite scoppettanti la prossima settimana nelle partite di ritorno come avete notato la disturbatrice oggi non c'è partite che sono molto aperte come abbiamo detto per la gara di ritorno parliamo specificamente della partita che ho visto quella della roma roma che passa in vantaggio con un gol di pellegrini su fantastico passaggio di zareschi e viene raggiunta nel secondo tempo da da leister 1 a 1 risultato finale e partita che è giocata abbastanza bene dai giallorossi che lascia aperte speranze per la gara di ritorno detto questo buonanotte a tutti e mi raccomando voglio tanti mi piace tante visualizzazioni e iscrivetevi al canale e vi ripeto la disturbatrice non c'è dove sarà andata voglio voglio i commenti qui sotto e vi risponderò detto questo buonanotte